Oggi vi farò vedere due big win fatte alle slot mentre eravamo in live stream sulla piattaforma viola Qua vi lascio il link in descrizione così potete seguire le live ogni sera alle 21 Praticamente abbiamo vinto una schedina da 8000 Da lì ci siamo spostati a due slot e lo vedrete nel video a seguire Dopodiché abbiamo fatto del blackjack, abbiamo fatto un sale scendi ma ho tagliato quelle parti perché sennò il video veniva troppo lungo Dai cazzo Alla prossima L'abbiamo quasi recuperato Anche hanno 25 euro Delle slot Ok cosa significano quei cosi se ne esce ancora un altro Cioè mi dava ancora giri Porco dio Porco dio Scusate la bestemmia Get down Nice E non capivo un cazzo io porca puttana Ero lì a guardare e dico ma che cazzo sta succedendo qua Ok 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 Non ci credo Ah ma hai visto Ah ma hai visto Hai visto Eh vabbè Te lo farò rivedere Nice La tua faccia era fantastica Nice Ma io mi taglio la barba domani Nice Guarda i miei amici che si congratulano con me Pensa se usciva per 200 Era 150k Porca troia Oh Andiamo così cazzo Stasera Stasera Sbanchiamo Allora Ok facciamo un recap Abbiamo vinto 3200 Grazie mille Pizzanana E ora tutti al deal No io direi di cambiare slot Ha pagato Big win cazzo Big win 10 capponi ragazzi Big win Io direi di giocare solo Solo 600 E fermarsi a 10k No Non ne ho la più pallida idea Vamos Dai Può succedere Può succedere Faccio il sondaggio Volete fare Un bonus Da 600 O due bonus Da 300 l'uno 76% Vuole il bonus Da 600 Vediamo Sì Devo chiudere il sondaggio Termina il sondaggio Finita L'ho vista la sub Non l'ho neanche scammata Non l'ho scammata L'ho ringraziato Giusto? O ci sono state altre sub? Ho ringraziato Ho ringraziato Luca 420 Per la sub Dalle mie parti Si dice Non succede Ma se succede Go 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 Vado da 7 Cazzo Non datemi contro E non chiamo il mio cane Perché porta Una yella Pesante Non voglio guardare in giro Non so quanto ho vinto Lo vedo da lì Non voglio guardare altre cose 90 91 Ok 91 Abbiamo ancora Un gioco paga 76 Ok Ho sbancato Ah se mi dai il cane grande È finita Non so quanto Ok Aspetta 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 Ok potrebbe succedere qualcosa Ok potrebbe succedere qualcosa Ma io stasera passo da Milano Vi vengo a prendere tutti Non c'è il lockdown Che ci tiene chiusi in casa Ovviamente sto scherzando Mi dissocio Cosa? Non ci credo ragazzi 1.200 No non è vero Non è vero Due slot e due che mi pagano Ma non è vero Non è vero Non è vero ragazzi Ok è vero Sì ma c'è ancora un giro Non ci credo Oh Amo Fai le valigie Fai le valigie Andiamo in vacanza Non sto scherzando Fai le valigie Il lockdown è finito È finito il lockdown Ti giuro E poi ho vinto adesso Non so 3.4.000 Ti giuro Ti giuro Guarda non sto scherzando Non sto scherzando Guarda Guarda quanto ho vinto 4.200 Ma c'è ancora un giro Amo ancora 1.200 Non te lo giuro Guarda Te lo giuro Non sto scherzando Guarda Guarda 4.000 Siamo a 5.000 Più quelli che c'erano già dentro Che erano della schedina 7.000 Ma in realtà eravamo 10 15.000 15.000 franchi Ti faccio vedere Non ti sto prendendo per il culo Scusa Qua c'è di me Scusa Eh sì 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 Questi qua Sono tua moglie Scusa Guarda Vuoi dare il saldo? Tanto non si può andare in vacanza Cos'è quella faccia? Vamonos E di questi non vedi neanche un euro piccolo Sai perché? Chi troppo vuole nulla stringe Ma se non mi hai mai fatto il regalo in un anno e mezzo di relazione Non chiedo tanto un anello di diamanti Una collana di quarzo Cose semplici chiedo Amo per favore Cose semplici Sono 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 Andate via qua che Qua stasera Qua stasera sbanco Non tirarmi giù il telo verde Qua stasera Io mi sa che qua stasera esco con Esco con le pezze al culo No non ci credo Guarda i miei amici che si complimentano con me Eh ragazzi Sapete cosa vi dico a sto punto? A sto punto lo facciamo no? Eh si puntato non capo per forza Ma che non capo? Eh si Per i problemi Ma pesanti Pesanti Sì sì Allora Oh calma minchia Dopo andiamo a Bloodjack Faccio un sondaggio Mi gioco Dovete scegliere se giocare Un Solo Bonus Da Oppure Due Due bonus Da Vabbè È andato Vai Potete votare 150 voti Mi blocco Eh siamo già 123 126 Ok Lo stiamo per fare Andiamo Andiamo col bonus Da un K Massimo Mille è il massimo Ma se per sbaglio Dovessi vincere con questa Se per sbaglio Dovessi vincere qualcosa con questa Eh per sbaglio Vinci il minimo 10 K No non faccio Quindi ci faccio 7 Non qua È andata Ok non ha pagato Stavolta Non ha pagato Non ha pagato Un cazzo Ancora due giri Vabbè si recupera un terzo Dai Vabbè ci sta Non è che si può sempre vincere Ma va Che paccata Minchia Quanto ci ha fatto vincere 5 K Che cazzo Deve farmi vincere ancora Vabbè dai 330 Prendiamoci un altro bonus Da 300 Ah no Ha vincito a 500 Vabbè Buono allora Ora lì 700 Vabbè dai Ci sta Cioè alla fine si è ancora 15.291 Cioè alla fine si è ancora